Sono stati rintracciati dai carabinieri e denunciati per violenza privata, percosse e minacce tre giovani tra i 19 e i 20 anni. Uno di loro aveva risposto ad un annuncio online di un 17enne che metteva in vendita un paio di cuffie da 250 euro. All'appuntamento ai giardini dell'arena il minorenne si è invece trovato circondato dai tre ragazzi che intendevano portarsi via le cuffie senza pagare un centesimo. Aggredito dal terzetto, il 17enne era però riuscito a resistere e denunciare il fatto ai carabinieri.